rimane però a questo punto la domanda strutturale cioè chi governa la sicurezza nazionale la risposta non è così la domanda non è né retorica né astratta come potete immaginare purtroppo la risposta non è chiara perché sulla carta il governo della sicurezza nazionale non esiste perché non esiste il concetto di sicurezza nazionale ora anticipando una parte del ragionamento che svolgerò successivamente il punto è questo noi siamo abituati che per poter applicare una norma dobbiamo banalmente averla e avere una norma significa che questa norma attua recepisce formalizza degli istituti se la sicurezza nazionale rimane quella che tuttora è cioè una categoria sostanzialmente di natura politica quindi più afferente alla alle all'ambito delle scienze politiche del delle dottrine strategiche via discorrendo diventa difficile trasportarla to cure all'interno del di un sistema di un ordinamento giuridico perché se non abbiamo una definizione non la possiamo applicare e questo è il peccato originale del o se volete il la debolezza strutturale dell'impianto sulla sicurezza nazionale sull'ordine pubblico e sul tecnocontrollo e quindi sulla relazione con i diritti della persona in una democrazia occidentale questa è la dicevo la debolezza strutturale del sistema che si sta costruendo quali sono i controlli tecnologici di pubblica sicurezza beh a tutt'oggi senza doversi trasferire necessariamente 7 8 mila chilometri ad est noi abbiamo un sistema informativo schengen e quindi il sistema informativo visti che tracciano i movimenti nell'ambito dell'unione europea tutti i precedenti di polizia compresi controlli su strada sono presenti i controlli patenti via discorrendo sono presenti nel sistema informativo interforze per i precedenti di polizia c'è il casellario giudiziario ci sono le banche dati biometriche foto segnalazioni di banca banca dati nazionale del dna impronte digitali a proposito della banca nazionale del dna vi ricordo che garante dei dati personali stefano rodotà ci fu una polemica al calor bianco con il ris dei carabinieri che avevano creato la loro banca dati del dna ad uso investigativo quindi al di fuori di qualsiasi previsione normativa specifica con con l'effetto questa cosa venne fatto con l'effetto sostanziale di considerare le persone inserite in quella in quella banca dati adesso rispondo alla alla domanda con il fa con la conseguenza di di far sì che chiunque facesse parte di quella banca dati fosse nei fatti indagato in automatico ogni volta che ris dovevano verificare la l'eventuale corrispondenza di un profilo genetico al a quello repertato sulla scena del crimine e attenzione in quella banca dati se non ricordo male c'era finita tutta quanta la la popolazione del paesino che nel quale viveva e fu uccisa chiara gambirasio perché tutta la popolazione diede volontariamente il proprio il proprio dna per aiutare le attività di indagini nessuno avrebbe mai potuto pensare che queste persone a fronte di un atto di senso civico di un atto di dovere civico poi nei fatti si trovassero sistematicamente e a loro insaputa confrontate col dna di di potenziali di potenziali illeciti poi c'è il tema enorme sul quale torneremo delle intercettazioni e dei trojan c'è l'anagrafe tributaria che nel momento in cui verrà collegata alla anche alla varia ai vari database bancari potrà consentire un'ulteriore forma di controllo estremamente efficiente abbiamo le banche dati finanziare abbiamo il pra abbiamo i sistemi di videosorveglianza delle polizie locali che oramai sono diventati ubiqui e ai quali la polizia in funzione di autorità locale di pubblica sicurezza può accedere senza particolari vincoli o formalità ecco perché quando vedo cartelli come quelli della fotografia che vedete mi domando che cosa ci sia da ridere di fronte a una telecamera che che ci guarda e questo introduce un altro aspetto e cioè il sostanziale rifiuto diffuso del di un fatto tutto sommato scontato inevitabile e cioè che lo stato ha il potere dovere di sorvegliarci per quanto sgradevole disturbante sia questa affermazione e il le necessità di pubblica sicurezza sono a doppio filo incatenate direi alla necessità del controllo e siccome la pubblica sicurezza è una esigenza di tipo sovraordinato rispetto anche ai diritti individuali il tema non è tanto la violazione dei diritti fondamentali alla telecamera viola la privacy posto che appunto la privacy sia anche da considerabile un diritto fondamentale ma è un altro discorso che ci porterebbe chilometri lontano il tema è un altro il tema è quello della possibilità effettiva del cittadino di avere giustizia sull'uso e sull'abuso dei poteri di pubblica sicurezza questo che cosa vuol dire il tulps nel corso del che è tuttora in vigore nonostante sia una normativa che arriva letteralmente da un'altra epoca il tulps ha subito un'opera di giurisdizionalizzazione nel corso del tempo per cui tutte quelle parti del tutto autoreferenziali che vedevano nel ministro dell'interno l'ente sovraordinato l'autorità suprema il superiore non reconnaissance in ordine alle decisioni sui provvedimenti di pubblica sicurezza insomma tutto questo tutto questo impianto è stato smantellato e sostituito dal controllo giurisdizionale per cui gli atti di pubblica sicurezza alla fine finiscono sul banco di un giudice e quindi il contemperamento fra le esigenze di pubblica dell'esercizio dei poteri di pubblica sicurezza e il la garanzia del controllo democratico sul su questo tipo di attività eh si realizza appunto attraverso l'intervento della magistratura vengo eh vengo alla domanda dunque scrive Rodolfo Mecarelli mi sembra che sia stata invocata la prassi da alcuni partiti per costringere l'allora presidente del consiglio a cedere la delega ai servizi che si era tenuto per sé eh quindi normativamente poteva anche non cederla sì certamente perché la legge cento ventiquattro duemilasette dice che il presidente del consiglio può cedere può attribuire la delega a a un numero limitato eh di un numero limitato eh di 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 prerogative quelle che non che non sono riservate eh eh alla presidenza del consiglio in via esclusiva e che potevano essere possono essere delegati esclusivamente alla eh a un sottosegretario o a un ministro senza portafoglio e domandatevi perché eh senza portafoglio perché il ministro senza portafoglio non avendo un budget non può organizzare in autonomia eh strumenti persone e mezzi e per essere molto espliciti eh se volete capire il perché di questa limitazione andate a eh cercare andate a studiare la la storia dell'ufficio affari riservati del ministero dell'interno per capire che cosa può succedere quando non c'è un eh controllo eh organizzativo e politico o quando si fa finta di non volerlo vedere rispetto alla eh alla istituzione di eh alla creazione di una matriosca eh di della della pubblica sicurezza o se volete fare una una pausa quando volete ditemelo io posso andare avanti ad oltranza grazie molte questo vuol dire che facciamo una pausa o che vado avanti in oltranza? Ah no vada l'abbiamo fatta. No no era grazie alla sua risposta. Ah ok. Però il tempo era giusto. A fianco alle banche dati ai sistemi di controllo tecnologico pubblico abbiamo tutta una serie di eh sistemi tecnologici privati in parte totalmente privati in parte parzialmente privati che contribuiscono a disegnare eh il sistema del tecnocontrollo di pubblica sicurezza. Mi riferisco ai sistemi di credit scoring eh ampiamente praticati da società di leasing, società di finanziare, credito al consumo e banche eh i sistemi di accumulazione dei dati di traffico telematico che gli internet provider sono obbligati e gli operatori telefonici sono obbligati a ehm eh a conservare oramai per almeno sei anni eh in attesa che qualcuno vada a fare quello che ai tempi si chiamava fishing for crimes e e poi da ultimo dati e informazioni trattate dalle piattaforme di social networking che sono l'ultimo grido eh tra parentesi di dolore delle autorità garanti di protezione dei dati personali che negli ultimi nelle ultime settimane parlo del garante austriaco di quello teresco improvvisamente scoprono dopo oltre trent'anni che mandando dati di analytics utilizzando Google Fonts e compagnia cantando tutta una serie di dati relativi alle persone eh ai cittadini europei finiscono eh nei sistemi di società americane che essendo sottoposti alla giurisdizione americana devono poi metterli a disposizione su richiesta delle autorità peraltro sotto il controllo della magistratura eh in caso di eh indagini di di varia natura meglio tardi che mai si potrebbe dire eh ma anche qui eh non possiamo parlare di tutti i temi sta di fatto che eh a fianco delle banche dati del del tecnocontrollo eh pubblicistico è in piedi un sistema di controllo tecnologico non meno efficiente e non meno granulare e non meno preoccupante nelle mani essenzialmente di soggetti privati e attenzione il tradunione normativo fra i due ambiti di tecnocontrollo è proprio la legge cento ventiquattro del duemilasette che attribuisce agli appartenenti ad Aise ed Aisi eh il potere di accedere a banche dati pubbliche private di qualsiasi tipo quindi questa norma è quella che consente l'inserimento eh nel eh sistema complessivo del tecnocontrollo anche di un patrimonio informativo privato al quale normalmente si potrebbe accedere solo attraverso il eh il provvedimento di un magistrato e nel momento in cui il confine tra pubblica sicurezza e sicurezza nazionale non è così non è poi così chiaro e considerando che l'Aise e l'Aisi interagiscono per legge non tanto e non solo con le autorità di pubblica sicurezza ma addirittura con la magistratura che è obbligata eh con l'unico limite dell'autorizzazione del procuratore generale mi sembra eh della Corte d'Appello a fornire informazioni su procedimenti quindi la eh le forze di polizia la magistratura chiunque deve poter mettere a disposizione delle strutture di intelligence la eh le informazioni e quindi dunque i sistemi eh dei quali hanno il controllo è proprio eh la lo spostamento dell'asse o l'attraversamento del confine fra pubblica sicurezza e sicurezza nazionale che consente di non avere nemmeno quella forma di tutela eh giurisdizionale sull'attività di pubblica sicurezza che invece l'esercizio di poteri puri di pubblica sicurezza eh implicherebbe. Quindi come vedete questa carenza di definizioni si traduce eh non è soltanto ripeto una curiosità accademica ma ha un effetto diretto sulla possibilità di esercitare il ruolo di watchdog cioè il ruolo di eh controllori eh di coloro che controllano i controllori.